Secondo tempo in corso, 2-2, ma la Roma c'è, Presidente? Sì, la Roma c'è, è un'ottima squadra, chiaramente non sta giocando contro una squadra che non ha un nome né un perché né un per come, ma sta giocando contro la squadra di Totti, una delle squadre più preparate in assoluto e probabilmente la favorita a vincere il titolo. Ci la stiamo mettendo tutta, ci stiamo prodigliando per fare il risultato, non è facile, ma la Roma c'è. La volta scorsa ci aveva promesso Totti non spaventa e così è. E così è. Speriamo che fino alla fine arriveremo con questo risultato che è del tutto gradito. I nuovi innessi, Presidente? I nuovi innessi sono innessi importanti, parliamo di Sentinelli, un ex professionista, il difensore centrale della Lodigiani, parliamo di Di Michele, ex professionista azzurro, insomma non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Carluccio, Serie A Malta, parliamo di Della Vallè, un altro ragazzo molto preparato, ex professionista, quindi insomma ci siamo, adesso dobbiamo far parlare i fatti invece di far parlare i nomi, questa è la cosa. Non finisce qui? Assolutamente no, ci saranno altri new entry, delle bombe di mercato in assoluto che arriveranno la settimana prossima. Presidente Mauritato promette veramente ancora anche grandi colpi per portare in alto la Roma Calcio 8, candidata diciamo al trofeo finale, no? Quindi allo scudetto. Assolutamente sì, grazie. Ok, è tutto, al prossimo collegamento, Presidente Mauritato, Roma Calcio 8, la partita è in corso 2-2 ma probabilmente chissà come andrà a fine. Grazie Presidente e complimenti ancora per quello che sta facendo per il calcio della Lega 8 qui nella città di Roma.